Potente appara ragazzi! Qua Vax, è la Gionicard, sono Nassolo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video che ragazzi è specialerrimo perché è specialerrimo? Perché ragazzi oggi sono qui e vi aprirò tutti sono qui come vedete e vi aprirò il pacchetto il pacchetto da 100.000 crediti ragazzi, quello più magico in assoluto, questo perché? Perché lo apriamo oggi? Perché oggi appunto l'unico giorno in cui sono usciti tutti i team of the year, o meglio, li fanno uscire nei pacchetti tutti insieme, la probabilità è sempre la stessa, 0,00001% però noi ci dobbiamo provare perché se non ci si prova non si può fare nulla quindi oggi noi ci proveremo, prima di iniziare ragazzi vi volevo dire innanzitutto se volete passare da FibaconeStress che è un sito affidabile che vende crediti, però ormai lo sapete già secondariamente che, allora io faccio questo video adesso, come vedete, non dico che mi sono appena svegliato perché io ho già letto devo leggere un libro per il martedì, mi sono svegliato la prima cosa che ho fatto è aver letto però per domani ho un macello di robe e io ho pensato a sta cosa, io adesso vi faccio questo video del pacchetto da 100.000 crediti poi nel caso, nel pomeriggio se ho tempo, ve ne faccio un altro perché come vedete io ho 316.000 crediti disponibili, però voi mi dovete dire una cosa, perché ovviamente come l'ho già detto, dato che adesso se lo faccio, faccioci pomeriggio, non sarà unito a questo video, quindi ciò che io mi sto chiedendo è, nel caso in cui io lo facessi lo vorreste vedere sempre su questo canale o sul mio secondo canale, quindi ragazzi magari anche se li apro tutte e tre, quindi ragazzi fatemi sapere se volete, appunto, magari tipo 2 o 3 video oggi, oppure un video qua, due sul secondo canale, questo perché perché non voglio che nessuno mi dica Axel, tanti video in un giorno XXX, no, XXXDD Money Grabbers, e quindi dato, per prevenire, meglio di curare fatemelo sapere scrivendo un commento, anzi scrivetelo adesso e quindi io direi che siamo pronti ragazzi, prima volta che faccio un video non dico da appena sguiat, ma ehm, una volta appunto che mi sono alzato dal letto vengo qua, faccio il video, con l'azione poi video, quindi siamo pronti allora, siamo prontissimi non siamo pronti, allora lo stiamo per farlo no, 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 questo no, questo no, questo no, non ci spira non ci spira, non ci spira ma poi questo da registrare e non piano non gli occhi oh, sì, sì sì scusa, sì, ho scacciato, madonna, non voglio dire 3, al 3 li apro 3, 2, 1 no e tu no, porca miseria che schifo beh beh oddio ma non è ma stiamo, scherziamo questo non è un pacchetto oh mio dio che schifo no da ma dai oh mmm che crimine non posso però fare questi 23.000 credit li utilizzeremo per aprire i pacchetti gli altri pacchetti normali perché questo crimine e non ci sono nemmeno no che palle e dai apriamo due così via due così può capitare adesso speriamo teniamo incrociate le dita dai saltiamo via su bozizio cristo voglio vedere un cazzo di team of una carta blu oggi la devo trovare ho ancora le carte ps e le carte psn i microsoft points però appunto minchie dopo magari vi faccio un pacco opening serio anche per i prossimi giorni semmai ve li carico dopo ultimo pacchetto di questo video però vi posso quasi promettere di caricarvene altri oggi perché non posso non trovare nulla quando si è il team of the year chiudiamo gli occhi anzi no saltiamo vediamo Gerrad ho trovato una leggenda Gerrad va bene no che palle e ragazzi è andata male è andata male però se questo video raggiunge gli O700 mi piace i 712 mi piace io caricherò l'altro e nell'altro è sicuro che noi troveremo qualcosa quindi ragazzi detto questo spero che questo veloce video vi sia piaciuto appunto mi scuso se apro solo un pacchetto però appunto per aprire gli altri la 100.000 devo fare degli altri account e ciò mi comporterà non dico una perdita di tempo però la spesa si dice si si spenderò del tempo e appunto dovrei spendere del tempo per farli quindi che adesso non ho però vi assicuro cercherò di farveli anche nel pomeriggio altri video di questi pacchetti da 100.000 crediti quindi detto questo spero che il video vi sia piaciuto io vi dico potente a parare sempre nel prossimo video bolla a parare sempre